Io volevo aggiungere a quello che ha detto il mio collega prima, che comunque noi stiamo qui da una settimana, notte e giorno presidiando sulle 24 ore, e che comunque il signor Zanoni se ne è fregato di noi è una settimana che non ci dà risposta, che non risponde ai sindacati, non risponde a noi, noi comunque stiamo cercando qua di risolvere il problema, ma non si vede nessuno, è arrivato l'assessore Grassi, il sindaco, i sindacati stanno cercando di fare il massimo, ma è una vergogna, è una vergogna, il signor Zanoni deve farsi un esame di coscienza e cercare di rispondere il più presto possibile.